Buongiorno, oggi dialoghiamo di Giacomo Lopardi, nel modo particolare del Cantico del Gallo Silvestre, insieme alla professoressa Sonia Gremes dell'Istituto di Istruzione Superiore dei Gasperi di Borgo Valsugana. Grazie Sonia del contributo e lascio a te la parola. Grazie Pierluigi. Il Cantico del Gallo Silvestre è inserito nelle operette morali che vengono pubblicate nel 1827, ma che Leopardi comincia già a scrivere a partire dal 1823, quando comincia ad approfondire la sua riflessione filosofica, in particolare sull'acerbo vero. Ecco, per comprendere appieno quest'operetta è necessario fare alcune premesse, innanzitutto su alcuni concetti. La ridovero. Beh, che cos'è? È la consapevolizia che l'uomo è necessariamente e strutturalmente infelice. Chiaro che l'immaginazione e le illusioni celano tale realtà, ma sono un debole inganno. E poi l'altro concetto è quello del pessimismo materialistico e cosmico, secondo il quale l'infelicità dell'uomo è una condizione assoluta. E l'uomo diventa solo un anello di un ciclo di produzione e conservazione della materia vivente. E dunque, a questa conseguenza di ciò, la sofferenza diventa una legge necessaria dell'universo. Ecco, questo principio viene ribadito anche in un'altra operetta di Leopardi, Il dialogo della natura di un islandese, in cui la natura è assolutamente indifferente più che matrigna. Ecco, per quanto riguarda invece la struttura dell'operetta divisa in due parti. Abbiamo un prologo in cui Leopardi ricorre all'espediente del ritrovamento di un manoscritto antico. Un artificio letterario che non è una novità di Leopardi, ma che è stato utilizzato anche da altri autori, come per esempio Miguel de Cervantes, Saavedra, ma anche da Manzoni stesso nei Promessi Sposi. E in questo manoscritto riporta il cantico di un gallo silvestre, che Leopardi poi afferma di tradurre per noi. Ecco, il manoscritto ci viene presentato come difficile nella lettura, in quanto è scritto in più lingue, addirittura orientali. E quindi il lettore percepisce già una certa difficoltà del traduttore a trasmetterne il significato. Ed inoltre Leopardi con questo espediente crea un senso di distacco dalla fonte, sentita comunque come strana, misteriosa, lontana. Ecco, diciamo che questa indeterminatezza e questa presunta inattendibilità del manoscritto rivestono in questa operetta una funzione ben precisa. Siccome il messaggio del gallo è un messaggio terribile, l'autore ne vuole attenuare l'impatto, appunto allontanando nell'indeterminatezza e nell'inattendibilità questo manoscritto. E qual è questo messaggio terribile? Che la vita è un progredire costante e inesorabile verso la morte, per poi sparire nel nulla. E questo veramente è un messaggio terribile e una riflessione a cui l'uomo non riesce a coglierne in senso. Ecco, invece la seconda parte dell'operetta è dedicata interamente al cantico di questo gallo, che è una creatura un po' misteriosa, e risveglia i mortali ogni giorno alla vita e al vero, nell'accezione aleopardiana del termine, dopo la breve consolazione del suono notturno. Ecco, su mortali d'estate, vi dice il gallo, il di rinasce, torna la verità in sulla terra e partons nelle immagini vane. Sorgete, ripigliatevi la soma della vita, riducetevi dal mondo falso nel vero. Ecco, quindi il gallo esorta gli uomini a svegliarsi dal sonno che è ristoratore e consolatorio, un sonno che rappresenta quindi una morte temporanea che permette di trarre un po' di sollievo dalla fatica di vivere e li invita a riprendersi il peso, chiamato soma qui nel testo, della vita e a trascinare la propria esistenza per un altro giorno. Occorre quindi abbandonare il mondo notturno dei sogni e delle illusioni, il mondo falso, per tornare purtroppo al mondo vero, che è quello reale della vita di tutti i giovani. Ecco, fuori di metafora, il risveglio del mattino rappresenta proprio il fatto di prendere consapevolezza dell'inconsistenza delle illusioni che caratterizzano la vita umana e che mascherano l'unica verità, ossia la ridovero, che l'uomo non sa o non vuole accettare e contro la quale verità continua a costruire filtri, schermi per poterne sopportare il peso. Ecco, ciascuno di noi, eppure il mattino è anche il tempo della speranza, perché gli uomini in quell'ora sono più predisposti, rispetto ad altri momenti della giornata, a riprendersi in mano la vita. Ecco, infatti Leopardi, in questo portavoce del Gallo, afferma ciascuno in questo tempo raccoglie e ricorre con l'animo tutti i pensieri della sua vita presente, richiama la memoria, i disegni, gli studi, i negozi, quindi tutte le consuete attività che tengono occupato l'uomo durante il giorno. Si propone i diletti e gli affanni che li siano per intervenire nello spazio del giorno nuovo e ciascuno in questo tempo è più desideroso che mai di ritrovare pure nella sua mente aspettative gioconde e pensieri dolci. Ma, ma c'è un ma. Pochi sono soddisfatti di questo desiderio, perché a tutti il risvegliarsi è danno, ribadisce il Gallo, e quindi il misero essere umano non è appena sveglio che li torna e ripiomba subito nelle mani dell'infelicità sua. Ecco, quindi per gli uomini sarebbe preferibile dormire perpetuamente? Insomma, questa è una domanda retorica alla quale si può immaginare. Benissimo la risposta. Ecco, il tema chiave del mattino, come momento più felice del giorno, viene ribadito da Leopardi anche in un passo dello Zibaldone in cui afferma che nella sua vita infelicissima, l'ora meno triste, non l'ora più felice, ma quella meno triste, è quella delle varmi. Le speranze e le illusioni ripigliano per pochi momenti un certo corpo e io chiamo quell'ora la gioventù della giornata per questa similitudine che ha con la gioventù della vita. E anche riguardo alla stessa giornata si suol sempre sperare di passarla meglio della precedente. E la sera che ti trovi fallito di questa speranza e disingannato si può chiamare la vecchiezza della giornata. Quindi viene istituita una corrispondenza perfetta tra il mattino, che è il momento della gioventù, e la sera, che è il momento della maturità e della vecchiaia, quando le illusioni e la speranza della prima parte della giornata si trasformano nel disinganno che coglie l'uomo alla sera. Ecco, il gallo, per ribadire anche l'ineluttabilità del suo messaggio, interpella anche il sole, che però rimane un interlocutore muto e gli chiede se mai nel corso dei secoli abbia mai visto qualche essere felice, in generale se ci sia la felicità nell'universo o se lui stesso sia felice. Ovviamente la mancanza di risposte da parte del sole è essa stessa una risposta inesorabile, ossia che la vita è male. Ciò fa tornare il gallo la sua precedente punzione. Mortali, destatevi, non siete ancora liberi dalla vita. Per ora non vi è concessa la morte. Solo di tratto in tratto vi è consentita per qualche spazio di tempo una somiglianza di quella, ossia il sonno, però che la vita non si potrebbe conservare se la non fosse interrotta frequentemente. Talcosa è la vita che a portarla fa di bisogno ad ora ad ora, diponendola a ripigliare un poco di lena e ristorarsi con un gusto e quasi una particella di morte. Ecco, dunque l'unica consolazione temporanea però dei mortali è proprio il sonno. Il sonno che comunque è qualcosa di necessario per la conservazione della vita, in quanto l'uomo ha bisogno dei momenti di tregua in cui riprende un po' la carica e l'energia. Allora lo scopo dell'essere qual è? La morte, anzi il nulla. Pare che l'essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obietto il morire procede il gallo. Non potendo morire per quel che non era, perciò dal nulla scaturirlo le cose che sono. Certo l'ultima causa dell'essere non è la felicità, però che niente cosa è felice. Vero è che le creature animate si propongono questo fine in ciascuna opera loro, ma da niente l'ottengono. E in tutta la loro vita, ingegnandosi, adoperandosi e penando sempre, non patiscono veramente per altro e non si affaticano se non per giungere a questo solo intento della natura che è la morte. Dunque l'ultimo scopo, lo scopo ultimo dell'essere non è altro che la morte e l'essere scaturisce dal nulla. Dunque la vita non è altro che una brevissima parentesi tra due nulla ed inoltre causa dell'essere non è la felicità, anche se l'uomo però pone la felicità come fine contingente di ogni sua attività. E meno male che l'uomo ci crede, altrimenti non intraprenderebbe nessuna attività. La felicità dunque non esiste e l'uomo vive in uno stato di infelicità permanente, strutturale, connaturato proprio all'esistenza, che l'uomo continua a negare, nascondere con le illusioni, le sovrastrutture, e i miti. Dunque l'uomo è alla fine un essere per la morte. Ecco il gallo inoltre procedendo ci ricorda che per tutti gli esseri mortali, non solo per l'uomo, la massima parte del vivere è un appassire, quindi la maggioranza del tempo nostro lo passiamo proprio ad appassire, ad andare verso la morte. Infatti se il principio del mattino somiglia alla giovinezza e il fior degli anni è il periodo della vita che si può definire il più felice e anche il più breve, tema che ritorna in altre opere di Leopardi come il sabato del villaggio per esempio. E in questo processo di invecchiamento volto all'estinzione e alla morte è incluso anche l'universo, non solo l'uomo. Ogni parte dell'universo si affretta infattecabilmente alla morte con sollecitudine e celerità ammirabile, tempo verrà che esso universo e la natura medesima sarà spenta, ossia finirà nel nulla. È significativo anche l'uso di questo verbo spegnersi, no? E di tutte le vicende e le cose create non rimarrà traccia alcuna ma un silenzio nudo e una quiete altissima impieranno lo spazio immenso. Ecco in quest'ultimo passo viene sancita la totale mancanza di un senso della vita, non solo dell'uomo ma di tutti gli esseri e addirittura dell'universo stesso. Ecco dunque il finale non offre una speranza alcuna di individuare un senso alla vita e all'esistenza ed è veramente un messaggio terribile. Forse ha avuto ragione Leopardi ad inventare diciamo questo espediente del manoscritto per allontanare un po' del mistero questo. In quanto il senso viene inghiottito dal nulla, pertanto l'unica certezza è che la vita rimanga proprio un mistero. Ecco in questa prospettiva inoltre viene ribadita la condizione misera dell'uomo, la sua totale insignificanza, come anche l'illusione che riguarda tutti i tentativi per mascherarla, le sovrastrutture, i mitri religiosi, filosofici, politici eccetera. Allora vale la pena vivere la vita se è destinato al nulla? Non è forse meglio non essere piuttosto che essere sapendo che l'esistenza comporta necessariamente la sofferenza? Beh sebbene in un passo dello Zibaldone Leopardi abbia affermato che il non essere sia preferibile all'essere in quanto nulla la sofferenza, in realtà qualche anno più tardi nella ginestra ribalterà questa visione pessimistica, almeno parzialmente, invitando l'uomo a vivere eroicamente con dignità, umiltà e solidarietà la sua breve vita nonostante tutto. Ecco siamo nella fase del pessimismo eroico o titanico. Ok e con questo avrei finito l'analisi della operetta e lascio la parola al mio collega per l'approfondimento degli aspetti filosofici, grazie. Grazie Sonia per queste interessanti riflessioni e così ci hai guidato nella comprensione di questa operetta veramente ricca e denza di moltissimi messaggi filosofici. Possiamo dire che un po' tutte le operette morali però costituiscono una forma, una sorta di dialogo tra letteratura e filosofia, un dialogo con i grandi autori del passato, del pensiero filosofico, Luciano, Cicerone, ma penso soprattutto Voltaire, in forma critica Pascal, Platone e certamente le operette morali rappresentano, costituiscono nel modo di vedere un'importante e anche estremamente in anticipo rispetto ai tempi critica alla razionalità occidentale, a un certo tipo di suo sviluppo, razionalistico, ottimistico, incentrato sulla centralità dell'uomo. Si anticipa, Leopardi come un sismografo in qualche modo, anticipa il nichilismo e una certa critica e una certa visione della crisi dei fondamenti della centralità occidentale di cui poi Nietzsche sarà come maestro del sospetto, sarà un grande esponente. Ma innanzitutto partirei dalla dimensione della centralità dell'uomo, dall'umanesimo all'illuminismo, diciamola di Tateominis, di Pico della Mirandola, dall'umanesimo all'illuminismo o al canto stesso, che poneva l'uomo come fine di ogni cosa, l'uomo aveva in una forma però talvolta anche non così disinteressata, posto se stesso al centro del creato dell'universo di ogni cosa. E questa propria centralità per molti versi, poi in realtà Leopardi in qualche modo riprenderà anche Nietzsche, ce ne svela l'illusorietà. D'altra parte in qualche modo già Copernico quando ci aveva detto che non eravamo al centro dell'universo con la sua rivoluzione copernicana, con il superamento del sistema geocentrico rispetto a quello geocentrico, aveva ribaltato quella centralità, ci avevamo già detto che non eravamo noi, noi come esseri umani, noi come abitanti della Terra, il centro del mondo, il centro dell'universo. Ma anche un'idea etnistica della vita, che la felicità fosse una prospettiva inelutabile, che si andasse per forza dal peggio al meglio o che ci fosse comunque una direzione, un'alfa e un'omega, questo era un tipo di paradigma storico che veniva certamente dalla cristianità, i greci avevano una visione circolare della vita per cui c'era un inizio e poi c'era una fine positiva fino a un raggiungimento di una felicità, di un raggiungimento positivo. Scorso poi il cristiano tornerà in tutta la cultura moderna, addirittura fino a Mars, c'è un inizio della storia e un fine positivo, il fine è il comunismo. La vita poi non è questo dono così ottimistico, così desiderabile come in fondo nella cultura moderna ci eravamo convinti. Esiste un mal di vivere, Pardi qui anticipa tematiche che poi nel Novecento saranno importanti e sviluppate, il cosiddetto male di vivere e le riflessioni che poi saranno in qualche modo anche in Montale, la vita nella sua dimensione più profonda è una dimensione dura, terribile, per certi versi tragica. Mi viene in mente Sofocle quando fece dire che era meglio non essere mai nati nei suoi protagonisti ed era la cosa migliore dell'edipo re. Un'altra convinzione della cultura moderna era che la natura dovesse accoglierci positivamente, fosse il luogo dove realizzare completamente noi stessi, il regno dove realizzare sulla terra quel regno di Dio. Invece la natura dimostra questo habitat, questa madre non così positiva, una matrigna che reperpetua i cicli di nascita e morte, incurante della nostra dimensione, della nostra felicità, che ci incatena a dei cicli di cui poi noi diventiamo in qualche modo delle vittime, dentro un naufraghi, in una scialuppa che costantemente ci porta un naufragio. Abbiamo detto in modo particolare, proprio in questo canto, nel canto mattutino del Gallo Silvestre, mi pare molto forte la dimensione del sospetto, quella che è stata attribuita a Nietzsche da Riccora, uno dei messi del sospetto, lui Marx e Freud, tre messi del sospetto, il quale ci invita a uscire dal mondo falso, dal mondo d'apparenza, dal mondo delle illusioni, per prendere contatto con la natura reale delle cose, con quello che è veramente la vita, nella sua dimensione più dura, più tragica, più dolorosa. Ma altro tema estremamente forte, mi pare, è quello della morte. Un grandissimo filosofo come Heidegger aveva riflettuto molto sulla questione della morte, non come appello alla morte, ma la morte come un elemento che dava un significato alla vita, cioè aiutava a mettere in campo delle scelte che fossero mature e consapevoli, essendo il tempo limitato. La morte diventava una parte integrante nella vita, ogni giorno in qualche modo si moriva, ovviamente non come aspiccio, ma come prospettiva di tempo e come il fatto che l'essere della nostra vita consisteva nelle scelte e la morte ci aiutava in questa dimensione delle scelte e naturalmente anche l'appeso delle scelte, mentre qui in Leopardi il discorso mi pare più pessimista e questo peso, il peso della scelta è un peso difficile, di difficile soluzione e appunto siamo comunque in un'ottica completamente opposta del piccolo, dove le vite e morte si oppongono, non si connettono. Paradigma un po' di tutta questa vita è che abbiamo visto che è un po' il giorno col suo ciclo, l'alba, la giovinezza, le speranze e poi la presa di coscienza che queste speranze verso la sera sono illusioni. Il tema del ciclo c'è anche in altri autori, penso a Diggel quando nella coscienza parla dei tre momenti della vita, dell'infanzia, poi della giovinezza della maturità. Certo lì c'è una prospettiva positiva, una di crescita, di superamento, perché in Egel il reale è razionale, qui invece il reale non è così razionale, qui invece la prospettiva finale è negativa. Inoltre vi si aggiunge una dimensione di circolarità, di eterno ritorno, per cui questo ciclo negativo si ripete costantemente, senza una speranza di uscita. Come non vedere comunque alla fine un richiamo a Schopenhauer, visto da molti e mi pare comunque anche a me molto evidente, nel senso che la vita è come un movimento di dolore, un movimento di fatica, un movimento che anche i tratti ci ferisce, a cui non riusciamo a sottrarci. Sappiamo il famoso pendolo di Schopenhauer, per cui la vita è un oscillare tra il dolore e la noia. Il dolore è perché siamo dominati da un desiderio, da una volontà di fare, che sempre fallisce, sempre non si realizza, per cui inevitabilmente desideriamo delle cose che non raggiungiamo, produce dolore. Ma la sospensione di questa volontà, di questa volontà di vivere, che comunque produce dolore, porta però di contro un'altra ipotesi altrettanto negativa, non positiva, che è la noia, l'assenza. In mezzo a brevi fugaci intervalli, illusioni di piacere. Per Leopardi abbiamo visto questa nota sul mattino, questa nota sulla primissima giovinetta. Forse concludendo si può dire questo, che lo scacco un po' della vita, ci aiuta Leopardi a notarlo, sta nel fatto che la felicità andrebbe trovata in qualcosa di stabile, in qualcosa di fisso, in qualcosa che non muta, non dipende dal qui e ora. Solo che questo qualcosa di stabile, di fisso non c'è, non lo troviamo. Quindi siamo in qualche modo condannati a questa insofferenza, a questo dolore, a questo mal di vivere. Con questa differenza però rispetto a Nietzsche, che anche Nietzsche considerava la vita qualcosa che si connettesse alla dimensione del dolore, della tragedia, con delle valenze terribili, tra virgolette. Solo che Nietzsche diceva di sì alla vita, pur con queste caratteristiche negative. Abbiamo anche la differenza con Schopenhauer, in qualche modo anche con Leopardi, come qui si dice di no. Però l'importante è nel senso della realtà e di quello che ci circonda, avendo tolto le maschere da certe illusioni che arrivano dalla cultura moderna. Io mi fermo qua, ringrazio ancora la prestazione Gremes che ci ha aiutato ad affrontare certi temi, e vi aspetto ai prossimi incontri che faremo con essi altri autori della cultura letteraria e filosofica. Grazie e grazie per averci seguito e a presto.